Un saluto a tutti gli amici di MTB Mag, benvenuti a questo nuovo video appuntamento con i nostri Tech Corner. L'argomento di oggi vi starà sicuramente a cuore, parleremo infatti come effettuare la revisione ordinaria di una forcella Fox. La procedura che vedremo è valida sia sulle forcelle Fox che generalmente su quasi tutte le forcelle, quindi anche su RockShox, Marzocchi, Magura, Formula, anche perché la procedura di revisione ordinaria prevede semplicemente la rimozione dei foderi, questa parte qua della forcella, la parte inferiore, la pulizia interna delle varie parti, l'eventuale sostituzione dei raschi a polvere e l'inserimento di olio nuovo. Poiché quasi tutte le forcelle sono più o meno identiche, come funzionamento questa procedura è applicabile a qualsiasi modello e marca, a parte qualche caso particolare che prevede procedure un pochettino più complesso e delicate. Perché dedicare tempo e risorse alla manutenzione della nostra forcella? I raschi a polvere sono piuttosto cari e anche l'olio non costa poco. Vi faccio vedere un esempio pratico, questo cliente pensava di risparmiare non facendo manutenzione. Come potete vedere gli steli di questa forcella sono completamente rovinati, qui in particolare l'abrasione è nella parte bassa, quindi non è neanche visibile dall'esterno, ma se giriamo gli steli di questa forcella vediamo che già nella parte alta il danno era praticamente evidente. Che cosa è successo? Scarsa manutenzione, raschi a polvere rovinati, l'olio di lubrificazione contenuto nei foderi è stato progressivamente espulso, il raschi a polvere vecchio non ha protetto in maniera adeguata l'ingresso della polvere all'interno del fodero e all'interno si è creata una pappetta di sabbia, polvere e olio, praticamente un mix abrasivo che ha completamente rovinato gli steli. Questa forcella, che è una Fox 32 Thalas, è praticamente da buttare. Che cosa ci serve per questo lavoro? Allora, innanzitutto ci serve l'olio, l'olio di lubrificazione dei foderi. In questo caso, essendo la forcella Fox, utilizziamo un olio 20 di tipo gold. Ci sarebbe poi del grasso per sospensioni, mi raccomando un grasso specifico per sospensioni, non utilizzate grassi a base di litio che rovinano la gomma. Abbiamo poi bisogno dei raschi a polvere nuovi, vi consiglio l'utilizzo degli SKF, funzionano davvero molto molto bene. Ci serve una siringa per dosare l'olio e iniettarlo all'interno dei foderi, un cacciagomme di metallo per togliere via i vecchi raschi a polvere, lo strumento per inserire i nuovi raschi a polvere, non è altro che una guida che ci permette di pressarli all'interno della loro sede nei foderi, una chiave a cricchetto e nel caso di questa forcella ci serviranno una chiave esagonale da 13, una da 10. Alcune forcelle Fox, avendo poco spazio a disposizione, richiede una chiave più fine. In questo caso abbiamo una chiave AL, neanche di qualità eccelsa, però molto fine che ci permette di svitare i dadini anche sulle forcelle con i piedini piuttosto sporgenti. Per la pulizia utilizzeremo alcol isopropilico, alcol isopropilico è un alcol che non lascia nessun residuo, è un potentissimo sgrassatore ma non ha coloranti, quindi non lascia nessun residuo fisso una volta effettuata l'operazione di pulizia. Utilizziamo poi sempre un paio di guanti protettivi, in nitrile, il lattice si scioglie con gli oli delle sospensioni e non dimentichiamoci poi del migliore amico del meccanico, un bel martello in plastica per spiantare i foderi. Il primo passaggio da non trascurare è la pulizia della forcella. La forcella deve essere perfettamente pulita e priva di polvero sporco. Eventuali residui di fango, soprattutto nella zona d'era schiapolvere, potrebbero infatti cadere all'interno dei foderi, causando una contaminazione dell'olio nuovo che andremo poi ad inserire. La forcella su cui lavoreremo è stata già revisionata, ve lo dico perché è una forcella già finita, quindi troveremo al suo interno dell'olio pulito ed è stata naturalmente già pulita in precedenza per poter effettuare la revisione. Rimuovere l'aria dalla nostra forcella non è fondamentale per poter togliere i foderi. È tuttavia un passaggio che consigliamo, soprattutto a chi ha le prime armi, per la sicurezza. Svitiamo il tappo e con uno smontavalvole rilasciamo tutta l'aria contenuta nella cartuccia. Sempre con lo smontavalvole possiamo togliere il core della valvola. A questo punto siamo sicuri che qualsiasi cosa facciamo alla nostra forcella questa non esploderà e non ci causerà rischio di lesioni o di farci male. Nella parte inferiore della forcella ci sono due bulloni. Il primo, quello del lato aria, è subito evidente. È un bullone da 10 mm. Il secondo, quello dell'idraulica, è nascosto all'interno del cappuccio di protezione. Rimuoviamo il cappuccio di protezione per accedere al registro del ritorno. Con una chiave da 2 mm svitiamo e rimuoviamo il pomello che regola il ritorno. C'è un piccolo granetto che lo tiene fissato sull'alberino. Lo sfiliamo. Notiamo l'alberino con la sede per il grano e liberiamo quindi i due bulloni che possono essere facilmente svitati con le opportune chiavi. Con la chiave da 10 mm allentiamo la prima vite, quella del lato aria. Come potete notare l'abbiamo soltanto allentata, non l'abbiamo svitata completamente, lasciando uno spazio tra il dado e il piede del fodero di circa un millimetro. Ripetiamo l'operazione anche per il lato idraulica, utilizzando in questo caso una chiave da 15 mm. Possiamo anche girare mano. Come potete vedere lasciamo sempre un piccolo gap, nel video è un difficile da mostrare ma proviamo a farvelo vedere in laterale. Lasciamo un piccolo gap di circa un millimetro che ci servirà per sbloccare successivamente i foderi. Allentati i dadi e lasciato un gap di alcuni millimetri, accertiamoci che il dado prenda per almeno due o tre spire di filetto. A questo punto utilizzando la chiave apposita, in questo caso la chiave da 10 mm come percussore, con il nostro martello in plastica e un paio di colpi ben assestati, sblocchiamo le aste dai piedi dei foderi. Quest'operazione in genere non richiede tanta forza, tuttavia se la nostra forcella è stata serrata un po' più del dovuto, un bel colpettino assestato può essere necessario per sbloccare il tutto. Ripetiamo l'operazione dal lato idraulica ed abbiamo praticamente sbloccato i foderi. Sbloccati quindi i foderi e rimosse i due dadi di bloccaggio delle astine, possiamo quindi far colare l'olio. Posizioniamo la forcella su un gancio e sfiliamo i foderi. Come potete vedere dalla parte inferiore dei foderi colerà l'olio vecchio, in questo caso l'olio è pulito perché come detto abbiamo appena revisionato la nostra forcella, ma se la nostra forcella ha un certo utilizzo troveremo all'interno dell'olio sicuramente particelle di sporco, residui di polvere e l'olio avrà un colore tendenzialmente nero. Possiamo anche, per velocizzare il processo, rimuovere completamente i foderi dalla forcella. E possiamo lasciar colare il tutto per alcuni minuti fino a che la maggior parte dell'olio non sarà colata nella nostra vasca di raccolta dell'olio. Mi raccomando, non buttate mai l'olio negli scarichi o nei lavandini. Questa nostra vasca è collegata a una tannica, in modo che poi possiamo smaltire gli oli esausti secondo quanto previsto dalle normative vigenti. È giunto il momento di pulire l'interno dei foderi. Spruzziamo abbondante alcol isopropilico. Prendiamo un pezzo di carta appallottolato, lo appallottoliamo e lo inseriamo all'interno dei foderi. Con una chiave lunga, in questo caso noi abbiamo questa chiave specifica, ma possiamo utilizzare un bastoncino, un qualsiasi cosa che sia pulito, spingiamo la carta all'interno dei foderi e, come potete vedere con la sempre olio, e avendo cura di non graffiare le boccole, facciamola uscire dalla parte superiore della forcella. Questa operazione va ripetuta più volte fino a che, in questo caso, l'olio era pulito, fino a che comunque ogni residuo di sporco e di olio esausto, e contaminato soprattutto, viene rimosso dai foderi della nostra forcella. L'operazione di pulizia è fondamentale. Se i nostri foderi vengono puliti con precisione e cura, la nostra forcella risulterà priva di contaminanti e quindi l'olio nuovo durerà più tempo. E' giunto il tempo di rimuovere i vecchi raschi a polvere. Poiché la forcella su cui stavamo lavorando prima era stata già revisionata, per non sprecare dei raschi a polvere già nuovi, lavoreremo su questi vecchi foderi di una Lyric. La procedura di rimozione può essere talvolta piuttosto complessa, nel senso che il raschi a polvere può essere molto difficile da tirare fuori, soprattutto su forcelle come la Lyric, che erano piuttosto rognosette. Lo strumento migliore per togliere il vecchio raschi a polvere è un cacciagomme in ferro. Come funziona? Prendiamo saldamente la forcella, inseriamo il nostro cacciagomme al di sotto del vecchio raschi a polvere e con un movimento deciso andiamo a tirare verso l'alto un lembro del raschi a polvere. Come potete vedere il raschi a polvere si piega e la mollettina si danneggia. Ecco il motivo per cui non abbiamo fatto questo lavoro sui raschi a polvere precedentemente installati. Se incontriamo difficoltà come in questo caso dobbiamo lavorare su più punti. Tendenzialmente lavoriamo sempre su circa metà del nostro raschi a polvere. Una volta che questo si è sbloccato, come possiamo vedere, viene fuori piuttosto facilmente. Questo raschi a polvere è bello sporco. Alcune forcelle come la Lyric hanno all'interno un raschi a olio. Anche questo elemento va sostituito. Nel caso delle forcelle Fox invece del raschi a olio c'è una spugnetta che può essere facilmente rimossa con le dita. A questo punto, dopo un'accurata operazione di pulizia, possiamo inserire il raschi a polvere. Come si inserisce il raschi a polvere? Noi, giusto per dimostrazione, riutilizzeremo il vecchio raschi a polvere, ma viene da sé che sarà necessario utilizzarne uno nuovo. Un raschi a polvere rimosso non può essere rimesso nella forcella. Per reinserire il raschi a polvere dobbiamo utilizzare l'apposito strumento. Questo strumento serve proprio a pressare il raschi a polvere nella sua sede e di inserirlo correttamente. Come funziona? Allora, innanzitutto, soprattutto sui SKF e sui 36, è meglio rimuovere la mollettina. Inseriamo il raschi a polvere nel nostro strumento. Come potete vedere, lo strumento appoggia sulla parte esterna del raschi a polvere, non su quella interna. Inseriamo lo strumento sulla forcella e, con una bella spinta, il nostro raschi a polvere entra in posizione. Una nota per quando si installa nel raschi a polvere di tipo SKF. Possono essere molto duri da inserire. Io personalmente mi trovo molto bene ad utilizzare un martello. Un martellino in plastica, alcuni colpi ben piazzati, permettono di inserire il raschi a polvere con maggior facilità. Prestate molto attenzione ai raschi a polvere non flangiati. Questo raschi a polvere è flangiato, quindi può essere spinto fino in fondo senza alcun problema. I raschi a polvere non flangiati, in particolare le versioni più nuove, quindi nel caso degli SKF i 36FN o i 32FN, non hanno la flangia. Quindi, teoricamente, posso andare più giù del dovuto. Prestiamo sempre attenzione che il raschi a polvere risulti sempre a filo nella parte superiore del fuori della nostra forcella, perché se si formasse uno scalino, questo scalino potrebbe far accumulare sporco. Inoltre, non rimarrebbe lo spazio sufficiente per poter inserire correttamente la spugnetta al di sotto del raschi a polvere e questo potrebbe causare un eccessivo attrito all'interno della nostra forcella. Se la nostra forcella è dotata di spugnette, queste vanno intrise nell'olio prima di poter essere installate. In questo caso l'abbiamo lasciata a bagno nell'olio per alcuni minuti e possiamo quindi inserirla al di sotto del raschi a polvere. L'operazione di inserimento della spugnetta è abbastanza semplice. Qualora doveste riscontrare problemi legati al poco spazio a disposizione, significa che avete inserito il raschi a polvere troppo in fondo. È un tipico errore dei raschi a polvere non flangiati, se vanno troppo in fondo la spugnetta poi non entra correttamente in sede. In questo caso, essendo il raschi a polvere è stato inserito correttamente, la spugnetta entra a perfezione e non si attorciglia, quindi rimane perfettamente distesa e svolge al meglio il suo lavoro. Inserita la spugnetta, applichiamo un leggero strato di grasso all'interno del raschi a polvere. Non dobbiamo esagerare, un eccesso di grasso viene poi espulso e quindi non fa neanche tanto bella la forcella, ma non dobbiamo neanche lesinare più di tanto perché il grasso svolgerà una duplice funzione, schermatura e lubrificazione della raschi a polvere. Dopo aver ingrassato il raschi a polvere, possiamo inserire gli steli all'interno dei foderi. Prima di procedere verifichiamo soltanto che l'asta della parte aria sia completamente stesa. Se ciò non si verificasse, inseriamo un pochettino di aria all'interno della camera pneumatica dopo aver rimontato la valvola. Allo stesso modo, anche l'asta dell'idraulica deve essere completamente stesa. Se l'asta rimane accorciata, non riusciremo poi ad avvitare il dado di chiusura e quindi dovremo riaprire successivamente la forcella. Quindi, aste completamente distese, in questo caso vedete che si allunga più della parte aria perché la forcella è in grado di ospitare anche una corsa maggiore. Aste completamente estese e possiamo procedere all'inserimento degli steli nei foderi. Come facciamo? Allora, l'inserimento può essere un pochettino difficoltoso. Il problema è che il raschi a polvere è piuttosto stretto e tende a piegarsi se non imbocchiamo correttamente lo stelo. Prestiamo particolare attenzione, facciamo dei piccoli movimenti circolari, inseriamo prima uno stelo e successivamente l'altro, sempre avendo cura di non danneggiare la schia a polvere, visto? Questo punto è entrato. Una volta imboccato il raschi a polvere, lo stelo scivola facilmente all'interno del fodero fino a battuta. Come capire quando è battuta? Semplice, come possiamo vedere sono fuoriusciti la parte inferiore delle due aste, quelle su cui poi va ad innestarsi la vite di fissaggio. A questo punto dobbiamo inserire l'olio, quindi sfiliamo le aste leggermente e attraverso questi due piccoli buchini, possiamo iniettare con la nostra siringa il quantitativo d'olio corretto per la nostra forcella. Come determinare il corretto quantitativo d'olio? Ogni forcella, soprattutto le FOX, hanno un codice. Tramite questo codice è possibile risalire con estrema precisione al modello e alla versione della nostra forcella. Andando sul sito di FOX, in questo caso, potremo vedere le tabelle degli oli e vedere quanto olio da inserire all'interno della nostra forcella. Nel caso di questa forcella, che è del 2015, il quantitativo d'olio da inserire sarà di 10 cc all'interno della parte aria e 30 cc all'interno della parte idraulica. Con la nostra siringa graduata aspiriamo quindi 10 cc di olio 20 vt e li iniettiamo nella parte aria. Aspiriamo 30 cc. Come potete vedere l'olio è molto viscoso. Aspiriamo 30 cc per la parte idraulica e li iniettiamo all'interno del relativo fodero. A questo punto l'inserimento dell'olio è finito. Spingiamo gli steli verso il basso in modo da far fuoriuscire i piedi delle aste e potremo quindi procedere con il serraggio e con la chiusura con gli appositi dadi. All'interno dei dadi di chiusura è presente una rondellina in plastica. Questa rondellina in plastica va sostituita. Quindi mettiamo una rondellina nuova e possiamo quindi avvitare i dadi sul piede del fodero. I dadi entrano solitamente a mano nella prima parte e poi vanno stretti con l'apposita chiave nella seconda. La coppia di sarraggio di questi dadi è di circa 7 Nm. Non andiamo oltre perché stringendo oltre questa coppia andremo a schiacciare eccessivamente la rondellina di plastica. Il sarraggio ottimale si ha con un leggero precarico della rondellina di plastica quindi avvitando fino a battuta e dando all'incirca un quarto o mezzo giro per schiacciare per bene la rondella di plastica senza tuttavia deformarla eccessivamente. Dopo aver stretto i dadi con la giusta coppia completiamo il rimontaggio della nostra forcella inserendo il registro del ritorno. Il registro del ritorno va avvitato avendo cura che il grano si innesti nell'apposita scanalatura. Non stringiamo troppo, il granetto è piccolo, si spana facilmente. Inserito il registro e verificato che funzioni correttamente possiamo applicare il tappo. A questo punto la nostra forcella è pronta ad essere rimontata sulla bicicletta. Non dimentichiamoci di rigonfiare la parte aria qualora avessimo rimosso l'aria e di testarla prima di metterci alla guida. L'operazione di revisione non richiede particolari capacità tecniche tuttavia non è consigliata ai meccanici alle prime armi. Bisogna avere un pochettino la mano, anche avere la giusta attrezzatura. Se avete dei dubbi o non vi sentite molto sicuri con questa procedura, rivolgetevi ad un meccanico professionista. È vero che chi fa da sé fa per tre, ma far danno si fa molto in fretta, soprattutto quando si lavora sulle sospensioni. Che dire, con questo è tutto. Se volete venirmi a trovarmi, trovate sempre, tutti i giorni, da Bike Lab, Strada della Pronda 39. Vi aspetto per un consiglio, per una birra. Ciao a tutti e buon lavoro. Ciao!